Scabbia, la casa di riposo dell'Istituto Fatebene Fratelli di Romano Dezzelino. 14 case in tutto, 12 anziani degenti e 2 operatori sono stati finora sottoposti a trattamento per curare l'infezione della pelle causata da un acaro che si inocula sotto cute provocando un intenso prurito. Il 5 ottobre è arrivata la segnalazione all'Ulse che si è attivata per monitorare la situazione. Come può essere arrivata, dottore, la scabbia nella casa di riposo? Non è facile saperlo, potrebbe essere stato un operatore, potrebbe essere stato un ospite, potrebbe essere stato un parente, un familiare, eccetera. Non è dato, non lo sappiamo esattamente. Sappiamo sicuramente che si tratta di situazioni che possono succedere, capitare nelle comunità. Una volta che si ha il sospetto o la certezza di scabbia, si può fare un adeguato trattamento che in genere permette di eliminare completamente l'acaro dal corpo. Se da una parte l'azienda sanitaria tende a rassicurare, dall'altra i parenti degli ospiti sono preoccupati per quanto sta accadendo. Ieri c'è stata anche una riunione per spiegare i comportamenti da adottare e che devono essere tenuti in particolare da chi fa assistenza. Soprattutto se ci sono ospiti non autosufficienti è indicato a prendere alcune misure di prevenzione con quali usare i guanti, lavarsi accuratamente le mani, cose che peraltro vanno bene non soltanto per la scabbia ma soprattutto direi per evitare infezioni più serie che si possono trasmettere nelle comunità chiuse. Grazie 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 Grazie